Quando ti avvicina il nemico succedono brutte cose. Ora, magari su un Zuef, un Klausewitz, questo concetto lo avrebbe espresso un po' meglio di così. Comunque, è una realtà della guerra, delle battaglie, degli scontri. Quando le nostre unità arrivano a stretto contatto con quelle del nemico, beh, cosa succede? Vediamolo insieme. Salve a tutti, sono Riccardo Masini e questo è VLOG. Allora, abbiamo parlato di quello che succede quando le nostre unità arrivano a stretto contatto con le unità del nostro avversario nei giochi di simulazione. Ossia, quando effettivamente arriviamo a un passo dallo scontro diretto. E in che modo i regolamenti dei giochi di simulazione gestiscono questo momento fondamentale, un momento immediatamente precedente allo scontro e tutto quello che succede in quel lasso di tempo? Perché, vedete, noi abbiamo un po' una visione un po' falsata degli scontri, delle battaglie, un po' cinematografica. No, ci immaginiamo una battaglia come due grandi schieramenti lineari che vanno a cozzare l'uno contro l'altro. In realtà è tutto un pochino più complicato perché ci sono manovre, tentativi di aggiramento, azioni di disturbo tra una linea e l'altra quando arrivano in prossimità. Nella storia succedeva questo, nelle varie epoche storiche. E quindi il gioco di simulazione ovviamente non può ignorare questa realtà. E quindi andrà un po' a metterci il bastone tra le ruote quando noi andremo ad avere le nostre unità vicino alle unità dell'avversario. Insomma, all'interno della sua sfera di influenza. E come lo farà? Con una meccanica che opera soprattutto nel caso dei wargames, dei giochi di simulazione ad esagoni. Ma non solo, anche altre tipologie di giochi di simulazione hanno questa meccanica. Questa meccanica sostanzialmente è quella delle zone di controllo. Ossia, zona di controllo, intendiamo quell'area intorno alla pedina dell'avversario che alle volte blocca le nostre unità, alle volte no. Comunque va ad influire, ad esercitare una sua influenza, a modificare il comportamento delle nostre truppe. Perché ovviamente sono in prossimità dell'avversario e quindi il loro comportamento sarà un po' più vincolato, le loro scelte, le loro possibilità di manovra saranno effettivamente ridotte. Le zone di controllo, dunque, dette anche all'inglese zones of control e lo trovate spesso abbreviato nel termine zoc, zoc appunto zone of control, oppure e zoc enemy, zone of control, perché quasi sempre le più importanti sono quelle dell'unità del nemico. Sono uno, da un lato, un elemento fondante della simulazione, cioè dà un po' il tono alla rappresentazione dell'evento nell'ambito della partita, nel corso della partita, ma soprattutto è uno degli elementi più caratterizzanti dei regolamenti. Di nuovo, soprattutto dei regolamenti di Wargames, un po' tradizionali e classici, ma anche ad aria, perché magari può anche esserci il fatto che se voi muovete le unità in un'area adiacente a quelle dove si trova un avversario, in un punto adiacente, comunque hanno dei malus alla manovra, oppure devono pagare dei punti in movimento in più, insomma. Tutta una serie di cose che poi vedremo, questa è una puntata che avrà una parte sul tavolo, lo vedremo tra poco dal punto di vista proprio pratico su mappa. Però appunto, dicevo, è uno degli elementi più caratterizzanti dei regolamenti. Quando voi prendete un nuovo regolamento, anche di questo ne parleremo, faremo una puntata apposita su come ci si avvicina, come si può approcciare un regolamento di un gioco di simulazione, anche tra i più complicati, per renderlo più semplice. Però, diciamo, una delle tecniche classiche per avvicinarsi e per valutare anche un regolamento è quella di andare a vedere ok, come mi gestisce il movimento, come mi gestisce il combattimento, come mi gestisce il morale di unità, quali sono le sue condizioni di vittoria e l'altro elemento è ha le zone di controllo e come sono, come sono fatte, come le gestisce. Tutta questa roba adesso la andiamo a vedere sul tavolo, sul tavolo da gioco, dividendo un po' per delle categorie di massima. Attenzione, poi lo ripeteremo, però diciamo, queste sono proprio categorie molto di massima. non sono precise, perché poi il mio regolamento è un po' fastore a sé, quindi magari avrà una serie di eccezioni, avrà alcune soluzioni di compromesso, talvolta coesisteranno diverse tipologie di zone di controllo. Comunque, quelle che stiamo per andare a vedere, anzi, quelle che andiamo a vedere adesso, quindi basta chiacchiere, quelle che andiamo a vedere adesso, sono quelle che possiamo definire un po' le grandi categorie delle zone di controllo e che, conoscendo queste categorie, avrete già dei punti di riferimento. Quando vi troverete di fronte ad un regolamento, capirete, ah, allora questa zona di controllo appartiene alle, poi lo vedremo, zona di controllo rigide, oppure questa è una semirigida, oppure è una zona di controllo libera, vi sarà più facile comprendere il regolamento e anche un po' orientarvi nell'ambito, magari, delle recensioni di chi ha già provato il gioco e vi dice, guardate, questo è un gioco a zona di controllo rigida. Che significa? Che cosa non significa? Lo scopriamo assieme adesso sul tavolo da gioco. Dunque, eccoci qua sul nostro tavolo da gioco. Abbiamo un po' messo una situazione tipica di una partita, di un gioco di simulazione, ovviamente, quello che vedrete è una dimostrazione delle diverse tipologie di zona di controllo, non è ovviamente legata a questo regolamento specifico. E' tutto una dimostrazione delle diverse tipologie in azione, però, così le vediamo insieme in movimento. Le pedine blu sono le pedine del difensore, quindi del giocatore non attivo in questo turno, le pedine grigie sono quelle dell'attaccante, cioè del giocatore attivo in questa fase, e in questa fase del turno. Vediamo le diverse tipologie di zone di controllo. Intanto, prima cosa, come operano in genere le zone di controllo? Le zone di controllo operano, in genere, ma non sempre, nei sei esagoni adiacenti, ok? Teniamo come riferimento questa pedina qui. Nei sei esagoni adiacenti. E all'interno di questi sei esagoni, quando un'unità nemica entra all'interno, subisce determinati effetti. Allora, la prima tipologia di zona di controllo è quella cosiddetta rigida, ossia quella secondo la quale, quando si entra nella zona di controllo dell'unità dell'avversario, ci si deve fermare, il movimento si arresta, quindi praticamente si fa questo gioco così, praticamente, voilà, due e tre, e fine qui. Non si può proseguire, anzi, per farvi capire, uno, due, questa pedina avrebbe anche un terzo punto di movimento, potrebbe teoricamente andare qui, ma invece no, invece non può proseguire, perché c'è la zona di controllo di questa pedina qui, che la blocca. Spesso, spesso, questo sistema è, non sempre, però spesso, è unito alla necessità, nella fase di combattimento, di combattere obbligatoriamente contro tutte le unità dell'avversario con le quali ci si trova adiacenti. e quindi è una zona di controllo molto, molto potente, molto rilevante ai fini della simulazione. Avremo quindi, che cosa avremo? Avremo uno scontro che tenderà a fermarsi, quindi uno scontro abbastanza statico, quindi magari con la disposizione di linee di difesa molto, molto ben definite. Invece, un'altra tipologia, ecco, mettiamola qua giù, che magari si vede meglio, un'altra tipologia di zona di controllo è la cosiddetta zona di controllo semi-rigida. Semi-rigida significa che semplicemente, magari ecco, facciamola cominciare da qui, qui non è in zona di controllo, qui entra in zona di controllo, per passare, per uscire dalla zona di controllo nell'ambito dello stesso movimento non devo aspettare il turno successivo, basta che faccio, che spenda due punti, magari c'è un modificatore negativo, di un punto, un malus di un punto movimento, quindi sarebbe uno, uno per il movimento, più uno, perché sto uscendo da una zona di controllo. In questo caso, la zona di controllo semi-rigida semplicemente ci rallenta, quindi riduce la nostra possibilità di movimento. Non posso fare un movimento uno, due, tre, ma devo fare uno, due, tre, e mi fermo, e mi fermo qui. O state vedendo che in effetti qui, sempre a titolo semplificativo, ho messo una seconda unità nemica, perché magari anche la stessa zona di controllo semi-rigida dice sì, normalmente, ecco, vi faccio vedere, in una situazione del genere, tu potrei fare uno, due, tre, però passare da una zona di controllo di mica di un'altra non è possibile, quindi uno, eh sì, qui ti basterebbe due, tre, però siccome c'è la zona di controllo di questa altra unità, tu non puoi passare da una EZOC, da una zona di controllo, all'altra. lo stesso regolamento potrà dirvi, non si può, a meno che, a meno che non ci sia un'unità amica che nega la zona di controllo, perché le zone di controllo, eh, possono anche essere negate. Di nuovo, come state vedendo, sì, sembra, è un po' complicato, ma in realtà è la bellezza del gioco di simulazione, del wargame, anche classico, dell'Excel Encounter, questa possibilità, questa grande, eh, varietà di, eh, di casi, di, di situazioni. Magari si può dire, ecco, in questo caso non lo puoi fare, perché, non puoi fare, puoi passare da qui a qui, perché c'è una zona di controllo, però, se c'è una tua unità amica vicina, le due zone di controllo si annullano, e quindi tu questo lavoro lo puoi fare. Altro discorso, magari vi potrebbe bloccare, dire, non puoi fare uno, due, tre, perché passi da una zona di controllo all'altra anche della stessa unità. Di nuovo, le variabili sono, eh, sono veramente tante. Comunque, senza, tante, senza tante storie, la zona di controllo semirigida è quella che semplicemente ci rallenta. Abbiamo visto, mentre la zona di controllo rigida ci ferma, il nostro movimento si interrompe quando arriviamo a 10 centimini, con la zona di controllo semirigida, semplicemente ci rallenta, ci costringe a spendere dei punti in movimento, aggiuntivi per uscirne sia all'interno del stesso turno oppure del turno successivo. si vede, a seconda regolamento, alcuni regolamenti delle zone di controllo rigide vi dicono che una volta che siete a contatto, non ve ne potete andare finché uno dei due non si ritira, e quindi di nuovo lì, scontro fermo, scontro statico. ci può stare, dipende dalla situazione storica che viene rappresentata dalla scala della simulazione. La zona di controllo semirigida invece tende a darci degli scontri un po' più fluidi, magari spesso viene utilizzata per seconda guerra mondiale, combattimenti moderni, nelle quali comunque c'è un discorso di sganciamento. A proposito dello sganciamento, magari vi si dice, sì, tu stai in questa zona di controllo, sei obbligato a combattere, a meno che non ci sia un'altra unità che non combatte per te, per esempio questa, qui si sacrifica, valori combattimento 1, combatte E, e quindi mentre questa tiene impegnata il nemico, la nostra può prendere e andarsene. Di nuovo, leggete il singolo regolamento, queste che vi sto dando sono un po' dei punti di riferimento. Un'altra tipologia ancora è la zona di controllo libera. La zona di controllo libera non c'è, nel senso che posso fare tranquillamente 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, come mi pare. La zona di controllo libera può essere appunto assoluta, oppure può esserci se c'è un'unità amica che ci nega la zona di controllo nemica. Anche qui serve per dare a questo punto una visione di uno scontro veramente molto, di movimento magari viene utilizzato sul tattico, nell'ambito del tattico. Anche qui, di nuovo, dipende dal singolo regolamento. E in particolare, magari anche all'interno dello stesso regolamento, magari le zone di controllo operano in una certa maniera per il movimento, hanno un certo importanza sul movimento, e hanno un'altra per il rifornimento. Magari vi si potrà dire, la zona di controllo amica non nega una zona di controllo nemica per il movimento, quindi qui è etti fermi, oppure, e però l'eterno dello stesso regolamento dice, però la zona di controllo amica nega la zona nemica ai fini del rifornimento, quindi deve esserci una linea di esagoni che porta verso un punto di rifornimento, ai fini del conto di questa linea di esagoni, effettivamente la zona di controllo nemica nega quella mica. Anche qui leggere il singolo regolamento, però l'importante è tenere, avere in mente esattamente che cosa significa zona di controllo, cioè sfera di influenza delle diverse unità. L'ultimo tipo di zona di controllo c'è in alcuni regolamenti, non in tutti, è una zona di controllo un po' particolare, praticamente si esercita soltanto, è una zona di controllo cosiddetta a catena, bondzo, io l'ho introdotto a catena, non c'è una traduzione effettiva, nel senso che è una zona di controllo, ora ve la metto qua così le vedete meglio, ecco, come opera questa zona di controllo? Semplicemente quando c'è un esagono in mezzo a due unità nemiche, quella esagono diventa una zona di controllo rigida, altrimenti non lo sarebbe, cioè fare così si potrebbe passare tranquillamente, oppure magari avere solo una semplice penalità al movimento, quindi una zona di controllo semirigida, se invece, tac, c'è un'altra adiacente allo stesso esagono, quindi così, 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 come vi pare, comunque con solo un esagono tra gli altri, diventa una barriera e la nostra unità ci si deve fermare in mezzo, in modo da avere linee di blocco, linee difensive più allargate, più estese, simula pattuglie in ricognizione, piccole schermaglie, roba che comunque rallenta il movimento, è una meccanica un po' macchinosa, una meccanica macchinosa, però esiste, cioè in alcune simulazioni, ed ha anche degli esiti interessanti, questo perché, appunto, regola principale, riassumendo, la zona di controllo è un elemento fondamentale all'interno del singolo regolamento, una delle prime cose che vi conviene andarvi a guardare per capire un po' qual è il tono generale della simulazione, ed è un elemento che vi permette di capire come il regolamento interpreta quel determinato evento storico che va a simulare, e effettivamente quelli dovranno essere i vostri ragionamenti tattici durante la partita, sia in difensiva, come schiero le umilità di modo che ci sia una linea difensiva coesa e comunque riesco a rallentare o quantomeno a intervenire sui movimenti dell'avversario, se è in attacco, è ok, andare in questa direzione che cosa significa? Con chi mi trovo a dover combattere, chi invece posso evitare, magari posso portare avanti delle mie unità perché tengo impegnate questo punto dell'area difensiva e nel frattempo io passo sotto e riesco ad aggirarla. Di nuovo, dipende dal singolo regolamento, quello che è importante però è che appunto che tiene in mente cosa significano queste grandi tipologie, ZOC rigida, ZOC semirigida, ZOC libera e appunto un caso particolare, però interessante, che è quello di ZOC a catena e che cosa queste diverse categorie di zona di controllo creano all'interno della simulazione che andrete a giocare, quindi come voi dovrete gestire la vostra partita. Rieccoci di nuovo qui. Allora, abbiamo visto un po' le diverse tipologie delle zone di controllo in azione, quindi proprio sulla mappa. Avete visto, ci sono tante soluzioni diverse, tante possibilità all'interno dello stesso regolamento o di vari regolamenti. Da questo dipende un po' il tono generale della simulazione. Vi segnalo qui, però appunto, proprio perché queste categorie di cui abbiamo parlato non sono da prendere come delle categorie troppo rigide, un paio di, non so se proprio eccezioni, un paio di particolarità nel nostro discorso, di casi particolari. Ecco, allora, spesso all'interno dello stesso regolamento, primo caso particolare, coesistono tipologie di zone di controllo diverse. Per esempio, si dirà, una unità utilizza un certo tipo di zona di controllo, un'altra unità ne utilizza un altro. Per farvi capire, magari le unità convenzionali avranno una zoc rigida, quindi quando arrivano accanto ad un'unità dell'avversario, eh no, boni, si fermano, magari, però, si dice anche, beh, però, queste unità speciali, siccome sono dei ranger, siccome sono dei commando, invece, hanno una zoc semi-rigida, quindi, semplicemente pagano un paio di punti in movimento in più, però possono continuare ad andare addirittura, possono aggirare l'avversario girandogli intorno, semplicemente pagando malos, e quindi con una zoc semirigida. E questo è il primo caso. Il secondo caso è quello delle zoc direzionali, perché finora noi abbiamo visto zoc che si proiettano tutto intorno all'unità, a 360 gradi, in tutti e sei gli esagoni adiacenti. Non è assolutamente detto. Spesso alcuni giochi, penso per esempio alla serie Jour de Gloire, ma non solo, e poi lo vedremo tra pochissimo, alcuni giochi hanno delle zone di controllo che si esercitano soltanto in direzione frontale, cioè soltanto due esagoni frontali rispetto all'unità. Oppure è misto nel senso che tutto intorno all'unità c'è un certo effetto, nella parte frontale dell'unità davanti c'è un effetto maggiorato più importante e quindi anche addirittura all'interno della stessa unità se l'avversario si trova di fronte ha una zocca rafforzata, se invece sta affiancheggiando sta passando sul retro giustamente avrà una zocca attenuata. Come vedete la varietà è estrema, però è importante avere in testa quelle che sono appunto le grandi categorie di zocca e sapere che cos'è una zocca che cos'è una zona di controllo come opera in generale e poi nel particolare è importante dicevo avere bene in mente queste categorie per potersi orientare ricordandosi che la zona di controllo è un elemento fondamentale della simulazione nell'ambito della gestione dello spazio la simulazione è una rappresentazione della realtà la realtà ha due grandi dimensioni che sono spazio e tempo il tempo è gestito nella simulazione tramite la scansione delle azioni all'interno del singolo turno e poi di tutti quanti diversi turni di gioco quindi le fasi di gioco le fasi all'interno del turno lo spazio è gestito dalla mappa dal movimento e dalle zone di controllo cioè che cosa succede quando le unità dei due schieramenti due o più schieramenti vanno a trovarsi vicino e quello ci rende ci dà una cifra fondamentale per capire come quella singola simulazione gestisce gli spostamenti nello spazio cioè sulla mappa delle diverse unità in campo ok basta con la teoria ne abbiamo questa è un'altra puntata un po' più teorica però importante per capire bene il gioco di simulazione come funziona andiamo alla pratica e andiamo a parlare del gioco di cui vi voglio parlare in questa puntata e che è eccolo qui Archibus Archibus serie Man of Iron GMT del grandissimo autore Richard Berg che per carità avrà fatto non abbiamo anche parlato giochi anche molto complicati ma anche giochi molto più semplici è un grandissimo autore e Archibus fa parte di questa serie Man of Iron che è dedicata alle battaglie medievali e rinascimentali è arrivata fino al rinascimento e appunto è particolare mi piace molto perché tratta di una serie di battaglie relativamente poco conosciute perfino poi in Italia che si sono combattute in Italia ed è ambientato durante le guerre tra francesi e spagnoli e italiani nel mezzo le cosiddette guerre d'Italia nel 1500 lo so è un argomento che si tratta poco però è un argomento fondamentale per la nostra storia nazionale e anche per la storia europea la serie Meno Viron parte dalle crociate e va e va avanti quindi dal medioevo e poi va avanti copre appunto guerra dei cent'anni guerra delle due rose e adesso guerre d'Italia archipius ve ne parlo proprio perché ha una particolarità nel regolamento addirittura ha detto guardate è inutile che Richard Berger poi c'è uno stile tutto suo è inutile che mi mandate mail è inutile che mi contattate no questo gioco non ha zona di controllo però però poi vai a vedere che le unità quando c'è un'unità quando vi trovate sul fronte di unità nemica avete delle limitazioni la manovra l'unità nemica può spararvi come fuoco di reazione perché magari c'è un po' la massa dei picchieri con gli arco di buggeri intorno e quindi alla fine insomma queste zone di controllo meno male ritorno ma anche se non sono classificate elementali quindi la zona di controllo non dovete pensare che è soltanto un discorso formale sulla mappa è un discorso molto più ampio è la sfera di influenza che un'unità esercita sullo spazio circostante si può essere d'accordo come non d'accordo sul modo con cui un certo regolamento va a gestire questo elemento ma appunto proprio perché è un elemento fondamentale della della simulazione la serie però tornando un attimo la serie meno iron è una serie a me piace molto è a metà un po' tra il design classico quindi esagoni unità eccetera eccetera tabelle tutto quanto e alcune suggestioni moderne ha un sistema di attivazioni che è particolare praticamente il vostro esercito è diviso in comandi ne attivate uno quindi un pezzo dell'esercito l'avversario può se vuole tentare di rubarvi l'iniziativa quindi attivare a sua volta un altro pezzo di esercito può riuscirci può non riuscirci una serie di tiri ho sono quattro titoli diversi ognuno ha delle piccole anche in questo campo delle attivazioni ha delle piccole differenze l'uno dell'altro il sistema centrale il motore del gioco rimane uguale però ha qualche differenza al suo interno molte regole speciali quello che definiremmo chrome cioè molte regole per dire questo tipo di unità gestisce il combattimento in maniera diversa rispetto a quest'altra talvolta un po' troppe per esempio qui in Archibius c'è una regola sugli svizzeri che ogni volta che in qualsiasi combattimento ogni singola unità deve testare per vedere se effettivamente entra in combattimento oppure si dice no non mi hai pagato prende diserta se ne va ok questo è un po' esagerato però potete anche ignorarle queste piccole regolette alla fine anche qui sta un po' stava un po' voglio questa in particolare la ignoro comunque la riduco molto nella frequenza del suo del suo utilizzo è diventato tristemente famoso Archibius perché ha un problema su uno degli scenari hanno invertito nella grafica hanno messo ai comandanti veneziani il simbolo spagnolo ai comandanti spagnoli il simbolo veneziano gli americani la sentono meno questa roba noi vedere gli spagnoli che andavanti con il leader spagnolo che va avanti con il gonfalone di San Marco ci fa un po' un po' effetto vabbè sono cose sì fastidiose però diciamo non vanno ad influire sul gioco ecco magari si spera in qualche errata ma chissà comunque è un gioco che alla fine non è neanche troppo complesso soprattutto nei suoi primissimi volumi meno Iron appunto o anche Infidel quindi che è un po' meno di queste regole speciali e la fase ha meno fasi di reazione cioè reazione dell'avversario quando è il nostro turno quindi diventa un pochino più lineare poi mano a mano ovviamente più che altro si complica la guerra la gestione delle battaglie quindi si complicano un po' le cose nella faccenda e in particolare anche molto ve lo consiglio anche perché è molto facile da avvicinare da provare perché basta che eccolo qua vi prendiate questo qui che C3i parleremo anche di questo rivista ufficiale della GMT Games che ha tantissime tantissimi spunti materiali interviste supplementi per i giochi GMT quindi se siete un appassionato di giochi di GMT e se siete appassionato di gioco storico non potete non essere un appassionato di giochi della GMT è una rivista preziosa nel suo ultimo numero nel suo ultimo numero il numero 31 ha uno scenario che utilizza le regole il motore diciamo di Man of Iron sulla battaglia di Wakefield durante la guerra delle due rose c'è un'arma anche abbastanza semplice che vi può servire molto come introduzione al regolamento poi C3i ripeto vale la pena averlo perché ha un sacco di roba in particolare numero 31 c'è anche una bella discussione su come Archebus tratta le diverse tipologie di unità con i diversi armamenti perché qui all'interno troverete una serie smisurata di truppe diverse picchieri picchieri di qualità maggiore picchieri di qualità minore spadaccini archibugieri archibugieri a cavallo scremagliatori balestri a cavallo balestri a piedi di tutto molto bello molto bello vari scenari con battaglie in questo caso che vanno da da Fornovo mi pare se mi ricordo bene fino fino all'esatto Fornovo Cerignola Agnadello Ravenna Marignano Bicocca Pavia e Ceresole diverse durate diverse difficoltà attenzione Pavia battagliona su doppia mappa mappa enorme mappa grande quindi lì veramente andate avanti per un bel pezzo veramente un bello scenario oppure anche scenari più ridotti più più gestibili come possono essere Ravenna Cerignola anche anche Agnadello una battaglia molto interessante comunque questo era Meno Viron come vi dicevo gioco che a secondo regolamento non ha zone di controllo ma in realtà ce l'ha e quindi detto questo come sempre augurandovi buon divertimento ci vediamo alla prossima e come sempre ricordatevi niente paura sono solo Wargames grazie a tutti grazie a tutti